Hi and welcome back to my Easy Grammar Lessons. Ciao e bentornati alle mie lezioni di grammatica facilitata. Oggi vi voglio parlare del Simple Present, del corretto uso, come si usa. Allora, noi perché dobbiamo parlare col Present Simple? Si usa per esprimere dati di fatto e tutto ciò che è generalmente vero. Per esempio io dico Hi, I'm Gabriella. Ciao, sono Gabriella. Oppure due per esprimere azioni abituali o di routine. Spesso si usa insieme agli avverbi di frequenza. Come per esempio io posso dire I work here perché lavoro qui nel locale abitualmente. Oppure posso dire I live here perché io vivo qui. Con gli avverbi invece indichiamo delle verità tipo Birmingham City always wins. Il Birmingham City vince sempre. Attenzione, il Present Simple non si usa per le azioni che avvengono nel momento in cui parli. Per quello c'è un altro tempo verbale che ve lo spiegherò più avanti. Si chiama il Simple Future, il Will Contratto. Però farò un podcast adatto per questo. Quindi ricapitolando, il Simple Present si usa solo per dire dei fatti reali. Per esempio io sono Gabriella, dirò I'm Gabriella. Oppure per esprimere azioni abituali o di routine. Là io uso sempre con gli avverbi di frequenza. Per esempio io dico io lavoro qui, faccio finta di lavorare in un locale come waitress, come cameriera. Dico I work here. Oppure io vivo qui a Torino. Quindi I live in Turin. Un dato di fatto. Ok. E poi bisogna stare attenti che il Simple Present non si usa come nella lingua italiana per le azioni che avvengono nel momento in cui parli. Per quelle ci sarà un tempo verbale che io vi spiegherò quando vi farò un altro podcast. praticamente le azioni che avvengono nel momento in cui parli si usungo il contratto. Quindi io dirò per esempio vado a dormire ora e dico I'll sleep. Oppure io leggo un libro e ora dirò I'll read. Ok? See you. Bye.